Dieci giorni di tempo e quanto hanno deciso di attendere gli ingegneri della provincia abbatta prima di presentare un esposto alla procura della Repubblica di Trani contro l'ente provincia. Ad annunciare la possibile clamorosa azione la presidente dell'ordine degli ingegneri della sesta provincia Antonella Cascella. Il motivo del contendere è il cattivo funzionamento del portale telematico per perfezionare le pratiche all'ufficio provinciale per l'edilizia sismica. Quel portale, imposto dalla provincia, sta creando disagi e rallentamenti all'espletamento delle pratiche burocratiche da parte degli ingegneri, ormai da un anno. Nello stesso periodo di tempo l'ordine professionale ha chiesto incontri con la provincia senza ricevere risposte. Così la pazienza sta per finire e come spiega in una nota ufficiale la presidente Cascella, gli ingegneri della sesta provincia aspetteranno altri dieci giorni prima di rivolgersi alla magistratura. Decisione estrema, spiega la Cascella, per tutelare il lavoro dei nostri iscritti. Dal primo gennaio scorso l'unica modalità di compilazione, trasmissione e consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche può avvenire attraverso il portale attivato dalla provincia BAT. Quel portale però dal 12 gennaio risulta inattivo e ancora oggi non funziona, fanno sapere dall'ordine degli ingegneri. La richiesta non è solo quella di risolvere il problema ma nell'attesa di ripristinare la possibilità di consegnare le pratiche a mezzo opposta elettronica certificata. Se le risposte non dovessero arrivare, gli ingegneri si rivolgeranno alla Procura della Repubblica.